C'è bisogno di nuove assunzioni, di abbattere il precariato e cogliere l'opportunità del contratto d'espansione. È netto il giudizio della CISL sulla governance della società di trasporto unico abruzzese. I lavoratori sono sottopagati rispetto alle ore svolte, dicono dal sindacato, e la beffa è che non potranno partecipare al bando per le assunzioni. Il 19 ottobre scorso il presidente della regione, Marsilio, aveva annunciato 127 nuovi posti di lavoro riservati ai giovani. Le assunzioni con contratto di apprendistato e spalmate nell'arco di 14 mesi saranno per un totale di 100 operatori di servizio, 10 figure amministrative e altrettante tecniche tra macchinisti e manutentori. Per noi è il minimo in un'azienda pubblica che ha un affidamento in austri 83 milioni di euro anno per 10 anni. Oggi però invece registriamo 23 3 mila giornate di lavoro somministrato, quindi non stabile ma precario, a fronte di una necessità di 107 autisti che tra l'altro sono rimpiazzati da solo 80 somministrati. La beffa qual è? Che questi lavoratori somministrati potrebbero non partecipare al bando di concorso annunciato più volte per un limite di età di 29 anni, imposto dal contratto di apprendistato professionalizzante e dalla necessità di non avere esperienze nel settore. Al momento gli interinali sarebbero l'80 per cento di coloro che lavorano al trasporto pubblico abruzzese, ovvero il massimo di quanto imposto dalla legge. Siamo pronti con un nuovo bando alle stesse condizioni di quello d'apprendistato, ha dichiarato nei giorni scorsi il presidente di TUA Gianfranco Giuliante, ma i sindacati non hanno voluto trovare un accordo. Se per Giuliante sottoscrivere accordi sindacali che permetterebbero a TUA di barattare assunzioni in cambio di una decurtazione economica che abbasserebbe gli stipendi dei neoassunti a 900 euro al mese, significa lavoro stabile e precario, lo spieghi al governatore Marsiglio con il quale noi auspichiamo vivamente di avere un incontro. Quindi voi vi siete interfacciati con Giuliante e va proposto sì di assumere ma abbassando gli stipendi. Sì, la governance di TUA ci propose di siglare un accordo che permettesse a TUA di assumere tutti quelli che non potrebbero partecipare a questo bando che nei requisiti ha 29 anni e assenza di professionalità con un accordo ponte che dovrebbe abbattere non solo la parte economica ma anche quella contrattuale di questi lavoratori. Per noi non è possibile. in un contesto che parla di PNRR questo non è possibile.